Un lungo applauso accoglie l'orchestra che per oltre due ore incanterà il pubblico del Teatro Rendano di Cosenza. Gremito in ogni ordine e posto, il concerto di Capodanno della stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano registra il sold out per la gioia e la soddisfazione dell'assessore al teatro Rosaria Zuccurro e del direttore artistico Lorenzo Parisi. A dare il benvenuto al nuovo anno l'orchestra del Rendano diretta dal padovano Alvise Casellati, considerato uno dei talenti emergenti degli ultimi anni e che ha suscitato l'attenzione dei media per avere lasciato una brillante carriera di avvocato a New York per dedicarsi alla grande passione della sua vita, la musica. L'orchestra del Teatro Rendano e io vogliamo augurarvi un... Buon anno! E così via la sinfonia del Guglielmo Tell di Rossini, l'ouverture di Fliedermas, il pipistrello di Strauss, il waltzer dei fiori di Tchaikovsky e tanta tradizione viennese. Secondo appuntamento della stagione lirico-sinfonica, primo della 2016, si parte col botto un sold out per il concerto di Capodanno. Grande entusiasmo, grande partecipazione. Abbiamo iniziato il nuovo anno sotto i migliori auspici. E continueremo ancora fra qualche giorno con il Teatro Rendano. Sarà il palcoscenico ideale per i tanti bambini e le tante famiglie che qui verranno per questo concerto di musica dedicato ai bambini. Un concerto di Walt Disney con la voce e le musiche e le parole di Rosa Martirano.